e wow amici di youtube come vedete qui davanti a voi ho una nuova app nuovo una bel carina questo bel lato qua perché si chiama world box e l'intro è così quando il signore creò la terra ed eccolo qui la terra davanti a voi e poi paolo e maria eccoli qua il vecchio e la vecchia eccoli buonasera si vedo vedo che state lavorando e si è un signore ho acceso il fuoco lei guarda che bello e le bambini è capace poi a voi ma a un certo punto della vostra esistenza finalmente arriverà qualcuno più forte è sceso una seta dal cielo che bruciò tutto quanto la riata giù la seta guarda che è maria cambia la scaletta e con la scaletta però intanto l'ha bruciato che e poi gli premiò di nuovo facendo crollare dal cielo un po di cespugli di mangiare e poi finalmente creò qualcun altro che gli rompe le balle il nano via nano vai a rompere le balle non signor guarda costruisci bene perché le arriate con un ospite là in fondo non vedo neanche più dove è andato dove è andato dove sei finito no non c'è più pazienza è sparita e poi e poi e poi cos'è che possiamo mettere possiamo metterci un po di pecore ok mettete eccoci invadiamo di pecore la vostra strana arriva quanti pecore che lo metti? sono tutte le cavre eh basta che lo spureggiano mio perché sennò queste cavre che? eh 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 povergine a te paolo eh eh potremmo farla a rosto o ne? certo certo paolo che l'ha lampisata al posto vengo il capo e fare il piazza ecco va bene ne? dai e poi gli regalo un po di pietre ecco una bella pioggia di pietre si tirerà le pietre eh eh le pietre un po di oro anche ecco un po di ricchezza un po di ferro così possono lavorare ecco allarghiamo così vediamo vediamo un po come se la cavano il vecchio e la vecchia guardate come lavorano se sei bello ti tirano le pietre se sei brutto ti tirano le pietre in faccia tua avrai pietre sempre in faccia tua avrai pietre sempre in faccia tua avrai brava però peccato che la tetta sparte sempre la vergogna ecco beic bravo ne? in tetta e poi gli regalo anche un caeser di acqua calda buon signor un po di acqua calda ma lavassera faccia che l'acqua calda e viva viva l'acqua calda cagnurà che si abbia come l'acqua calda è cambia il schienzo e la mia dietro ci pietre da 4 anni che ho allora ma non ha fatto mia faccia in amare fino male che ci sono io a creare tutto il credo io un po di pioggia ecco piove 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 via e già di passaggi via è già andata guarda eccola qui è già andata tanto piovere solo poco e adesso cosa succederà e adesso freddo freddo all'improvviso neve neve da per tutto e anche di qua via nevita nevita oh signor a che freddo che fa maria ma che vestiva la so che è in canota prima le ero che è in canota adesso la so mia neve ma che bella neve vieni qua maria vieni a tuffarti sei in orante che l'ha stati in canota e vieni che la batterla va eh aspetta neve perchè un atom perchè la parrucca neve e poi finalmente ci sto fare per distruggere tutto con un bello uragano oh signor a parte via ah 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 distruggi tutto distruggi tutto via via ecco ho distrutto tutto bene se anche voi vi è piaciuto questa piccola ridicola app mi raccomando fatecelo sapere nei commenti dei pollicini o comunque altre cose perchè comunque qui dentro ci sono tante c'è anche il terremoto scossa il terremoto ride ride ancora la vecchia la sento scossa scossa ho distrutto tutto non è possibile chi si metta a ridere signora lei ride eh io no ho distrutto tutto guardate che distruzione che ho fatto si ma aspetta eh sono ancora di meglio no bombe atomiche via distruggiamo tutto ecco via distrutto tutta l'isola tutto distrutto e bravo bravo che cosa c'è più niente e bravo bravo ecco boom l'ultimo boom bene alla prossima amici ciao ciao ciao